E buon salve a tutti ragazzi e ben ritornati sul canale di Vifastroxatech Bene ragazzi ci siamo dopo ben 6 anni di onorato servizio Il VR va in pensione Va in pensione perché come avete visto dal titolo è arrivata la nuova moto Faccio questa breve intro per dirvi due bravi cose Poi vi lascio a questo breve video dove appunto vi mostro la nuova moto E poi mi raccomando nei commenti qui sotto scrivetemi tutte le domande che avete riguardo appunto la nuova moto E cadrò a rispondere poi nel prossimo video Poi naturalmente arriveranno una serie di nuovi video bomba assolutamente bomba inediti Con un tasso di ignoranza elevatissimo Mi raccomando ragazzi fatelo esplodere questo video Fatelo arrivare a tutti i vostri amici e mi raccomando lasciate un bel like Noi ragazzi quindi ci vediamo al prossimo video con la risposta alle vostre domande Detto questo buona visione Ciao! 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 Grazie a tutti.